Immersa nella nuova storia d'amore, Beranna Rodriguez con Elio Lorenzoni dopo uno stop del social e da tutto, ora condivide ogni momento insieme ai suoi figli e ad Elio. La sciogherla porta i figli durante il weekend a festeggiare il compleanno di Elio Lorenzoni a cui fa una dedica speciale che dice augurio a te che sei l'immenso per me. Luna, vuoi il latte? E' troppo bella, è troppo bella. Ciao, ciao! Guarda bene, questa è la tua, domandetta è così. Ecco, guarda bene. Sì, guarda bene. 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 Grazie a tutti Grazie a tutti